Allora, rispondi senza pensarci. Amatriciano o Carbonara? Ah! Carbonara! Carletto Mazzono o Morigno? Carletto! Totti o De Rossi? Porca! Ma che è? Mamma e papà questo? No, non lo scelgo. Pellissier o Deo Diamanti? Pellissier. Chiamarsi bomber o altre pagine? Ah, eh? Chiamarsi bomber. Arbeits humidica. L'error spigliare il nostro corso del giro. Bicici-l'ac adulterio? No, non lo scelgo.